Buongiorno, voglio far vedere questo disegno, si chiama folia. Questa io ho fatto maglia per la mia bambina, già pronta. Questa io voglio far vedere il disegno di questo motivo. Non è complicato, è semplicissimo, solo bisogna avere volontà. Allora, questa io ho sposto. Io spero voi avete fatto screenshot, è vero? Così rimane voi come memoria. Allora, spostiamo. Io ho preso questa volta così più grosse. E cominciamo. Allora, primo giro, otto maglie diritte. Questo è il mio bordo famoso, quale io sempre faccio consiglio anche a voi. Rovescio. Cominciamo. Otto diritte. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Tre insieme verso a destra. Così mettiamo tre insieme. Tre insieme. Un gittato, diritto un gittato. Questo gittato, è mezzo a questo centro di disegno, così non confondiamo. Un gittato, diritto un gittato. Tre insieme. Una io sposto. Faccio, faccio due. E sopra io cavalco questa quale io spostata prima. Però si può fare come noi abbiamo fatto qui, uguale. Allora, otto dritti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Rovescio. Questo bordo, questo sposto. L'ultima. Sempre faccio rovescio. Giriamo parte di rovescio. E ripetiamo, facciamo come male stanno. Dove dritti, dritti, dove rovescio, facciamo rovescio. Rovescio. Come voi guardate nella schema. Sempre disegno di queste folie vanno rovescio. 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 Un gittato rovescio. Questa mezzo. Un gittato rovescio. Quale dritto? Già ci vede questa dritta. Questa centrale. Rovescio. 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 Un gittato anche rovescio. 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 Diritto. E bordo. Rovescio. E l'ultima anche va rovescio. Terzo giro. Sei dritti. Prima facciamo il nostro bordo. Questa spostiamo e questa spostiamo. Rovescio. Questa io sempre faccio questo bordo. Continuiamo con disegno. Sei diritti. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Giriamo questi tre mali e facciamo tre insieme. Tre insieme. Tirate bene così. Non devi stringere. Un gitt... Diritto. Chiedo scusa. Diritto. Ungitato. Diritto. Ungitato. Diritto. Questo è il centro. E adesso ripetiamo. Diritto. Ungitato. Diritto. Ungitato. Diritto. E questi tre insieme. Prima io sposto. Altri due. Io faccio così. E questo io cavalco. Ops. A posto. A posto. Sei. Sei diritti. Come abbiamo fatto qui. Rovescio. E mi abordo. Prima io sposto. L'ultimo rovescio. Giriamo. Quarto giro. Come guardano malie. Dove rovescio rovescio. Dove dritti. Facciamo dritti. Nel nostro disegno. Tutti rovescio. Solo centro. Parte di rovescio. Va dritto. Ungitato. Anche rovescio. Ragazzi. Non scordate. E non perdete. Perché dopo di giro. Nel nostro torto. Rovescio. Quasi tutti di giro. Nel nostro torto. A posto. Nel nostro bordino. Rovescio. E l'ultimo rovescio. A posto. Andiamo avanti. Nel nostro bordo. Rovescio. Allora. Cinque. Dritti. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Tre. Facciamo insieme. Cinque. Sei. Cinque. Uno. Due. Tre. Quattro. Chiedo scusa. Quattro. Perché questa è linea. Quattro. Tre. Insieme. Ragazzi. Chiedo scusa. Un po'. Allora. Già. Vediamo. Folie. Diritto. Diritto. Ungitato. Ragazzi. Così. Con dito. Tenete. Stretto. Così. Non perdere. Dritto. Ungitato. Uno. Due. Due. Dritti. Rovescio. Uno. Due. Ungitato. Dritto. Ungitato. Uno. Due dritti. E facciamo tre insieme. Questa spostiamo. Queste due facciamo. e cavalco sciopra. Uno. Due. Tre. Quattro. Non abbiamo sbagliato. Rovescio. E questa mi abordo. parte di rovescio. Come guardano mali. Dove rovescio. Rovescio. Dove dritti. Dritti. Nostro disegno. Nostre folie. Tutti vanno. Con mali rovesci. E mi raccomando ragazze. Ungitato. Non perdete controllate. E fate parte di rovescio. Rovescio. Dritto. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undeci. Dodici. Dritto. Rovescio. E l'ultima sempre va rovescio. Andiamo avanti. Adesso andiamo questa parte. Questo è il nostro bordino. Rovescio. Uno. Due. Guardate ragazze. Noi facciamo adesso giro numero sette. Uno. Due. Due insieme. Questi tre. Questi tre. Vanno insieme. Voi avete capito ragazze. Vedete? Già va come piccolo tronco. Perciò noi dobbiamo con questa coprire altre due. Ops. Tre. Guardate. Non stringete perché tirate un po' male date libertà. Continuiamo. Uno. Uno. Due. Tre. Tre. Questa già. Voi vedete già foglia che mince. Questa è il centro di foglia. Ungitato. Diritto. Ungitato. Uno. Due. Tre. Finita foglia. Giriamo. Facciamo altro foglio. Uno. Due. Tre. Ungitato. Tenete con dito. Non perdere un citato diritto. Ungitato. Uno. Due. Tre. E qui dobbiamo fare tre. Insieme. Verso a sinistra. Questa. Spostiamo. Due insieme. E questa cavalchiamo. Ops. Uno. Due. Rovescio. Bordo. Rovescio. Giriamo. facciamo come guardano maglie. Questa. Un. Gettato. Diritto. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undeci. dodici. Rovescio. Una dritta. Dodici. Rovescio. Uno. Due. Tre. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. Dieci. Undeci. Dodici. Altra foglia. Diritto. Rovescio. E l'ultima. Sempre. Rovescio. Come voi valete avere bordino così bello. Bellissimo. Fate come consiglio io. Dopo ogni fa come pare. E adesso ragazzi facciamo l'ultimo giro. Giro. Nove. Questa bordo. Questa bordo. Queste l'ultime tre. Giriamo. Facciamo insieme. Foglia. Due. Tre. Quattro. Questa è la nostra folia. Ungitato. Diritto. Ungitato. Uno. Due. Tre. Quattro. Un foglio abbiamo fatto. Un rovescio. Ripetiamo. Uno. Due. Tre. Quattro. Questa è la nostra folia. Ragazzi. Voi vedete bene. Ungitato. Dritto. Dritto. Ungitato. Uno. Due. Tre. Quattro. E questi tre insieme. Rovescio. E mi abordo. Questa io sposto. Questa io faccio rovescio. Giriamo. Questo è l'ultimo nostro giro rovescio. E dopo cominciamo ragazze dal giro numero uno. E dopo voi fate quante voi bisogna questi disegni o folie. Io ho fatto reglano. Io tutti faccio reglano dal sciù circolare. E finisco sempre giù. Senza cucitura. Mi piace. Meno confusione. E viene roba molto bella. Tutte simmetrie e male uguali. Parte a destra e parte a sinistra. Consiglio anche voi. Io ho preparato. Io penso cosa. Prossimo video faccio. Con mini. Maglia. Come per. Per bambole. Per capire. Adesso io faccio voi disegni. Quale uso io. Cerco più semplice. Ragazze. Abbiamo finito. Abbiamo finito folia. E dopo. Adesso noi cominciamo. Dal. Dal giro. Primo. E dopo. Vengono così folie. Io faccio come dal sciù giù. Perciò folie. Guardano con questa maniera. Adesso provo a mettere. Per far vedere. E' bella. Cosa mi piace. Non complicata. Questa mi piace tantissimo. Questa io ho vista nel giornale. Allora. Questa malia. Io ho fatto reglano dal sciù. Dal sciù. Perciò qui. Vengono. Due. Due scheme. Di queste folie. E vengono giù. Dove le nostre maniche. A questa parte. Viene così. Ragazzi. Mi sembra raccontato. Tutti i miei secreti. Perciò. Questa io ho fatto. Con folie. Maniche. Con reglano. Con reglano. E ho finito. Con questo elastico. Quale io ho già. Ho fatto vedere. Per voi. Senza. Una cucitura. Senza cucitura. Voi non trovate. Intanto. Tanto risparmio di lana. Ragazzi. Io ho raccontato. Tutti i miei secreti. Questa. Di genio. Questa. Cosa abbiamo. Fatto. Adesso. Insieme. Io auguro. Voi. Buona giornata. Fortuna. Ma certo. Anche per me. La ringrazio. Voi? Voi? Voi?